Negli ultimi anni a Palermo sono stati aperti numerosi compreoro, ma in tempo di crisi anche questi negozi sono presi di mira dai malviventi. È il caso di 5 attività commerciali che tra febbraio e aprile 2012 sono state rapinate da una vera e propria banda. A capo di questa organizzazione c'era Rosalia Ogello, 28 anni. Gli inquirenti sono aggiunti a lei e ai suoi complici attraverso la collaborazione delle vittime e gli assalti, ma anche grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza. L'ultimo dei colpi in un negozio di piazza generale Cascino, ma la banda agiva anche in provincia, ad esempio a Bagheria, in una giolleria di Corso Butera. Il modo di operare era sempre lo stesso, tutto ideato da Rosalia Ogello. Era lei a individuare gli obiettivi, a scegliere gli esecutori materiali del colpo, ma la donna partecipava anche in prima persona alle rapine. Come agivano? Agivano con la presenza della donna, serviva per facilitare l'accesso nelle giollerie, che poi non erano delle vere e proprie giollerie, erano quelli che vengono definiti i comproro. La titolare, che spesso era anche lei una donna, comunque il titolare dell'esercizio commerciale, vedendo una donna, era più sereno. E quindi lei era, diciamo, un po' la testa da riete che consentiva poi l'accesso ai suoi complici maschi, che aggredivano fisicamente la titolare, uno o due che c'erano, venivano magari legati, in alcuni casi sono stati anche rinchiusi nei bagni, in una stanzetta, e svuotavano poi l'esercizio commerciale per poi darsi alla fuga. Agli arresti sono finiti anche i complici, Rosalba Larrosa, Aurelio Valguarnera, Salvatore Giappone, mentre Libori Augiello, padre la capobanda, e agli arresti domiciliari per ricettazione. Era infatti lui a occuparsi dello smercio del bottino in altre zone della città. In due mesi la banda aveva arraziato circa 100.000 euro tra denaro e gioielli.